Sono fiducioso perché comunque ho una grande fiducia nel nostro allenatore, nel nostro staff tecnico e nei nostri giocatori. Quindi chiaramente andare a giocare con una delle squadre più forti del mondo che vanta nelle sue file giocatori a livello proprio mondiale, come Riccardigno, Ortiz, un allenatore fantastico, Velasco che ha vinto di tutto di più, sembra quasi un'impresa impossibile. Però noi siamo, come ho sempre detto, ottimisti di natura. Questo è il nostro DNA, questa è la nostra forza, siamo sempre stati così, quindi io sono ottimista. E poi al di là di tutto comunque c'è questa carica, questa energia. Giocare una partita con una delle squadre più forti del mondo ci dà una carica immensa. Prima di arrivare in Serie A non potevo immaginare quanto fosse affascinante andare in Europa. Più passa il tempo, più mi rendo conto. Chiaramente questo è il secondo anno consecutivo in cui giochiamo alla Champions, quindi ci dà anche un certo prestigio, è proprio qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, è qualcosa che comunque tocca un po' tutti i nostri cuori, tutto il nostro DNA. E noi lo avvertiamo, io lo avverto nelle persone, nei miei amici, nei giornalisti, in tutto. Lo scudetto è una cosa meravigliosa, una finale scudetto è qualcosa di fantastico, una finale di Coppa Italia è sempre meravigliosa, però io penso che arrivare a giocarsi una finale di Champions sarebbe qualcosa di veramente stratosferico e al di fuori di ogni regola, al di fuori di ogni norma.